Il vino naturale non è una moda, seguita da semplici vignaioli o garagisti, ma sempre più un modo consapevole di produrre in modo diverso rispetto alla convenzione. Un tema chiaro ai tanti che hanno partecipato alla quarta edizione di The Wine Revolution all'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante. Persone interessate alle questioni ambientali, ad esempio, che vedono nel vino naturale anche un modo per salvaguardare tradizioni e territorio. Noi in Val Borbera stiamo cercando di fare un lavoro quasi archeologico, cioè stiamo recuperando, rivalorizzando e riconoscendo anche la biodiversità che c'è, che è un grandissimo patrimonio, che qualcuno prima di noi ha lavorato tanto, ha sudato e ci ha lasciato. E quindi noi stiamo cercando banalmente, siamo a questo punto, stiamo salvando in qualche modo e riprendendo tutta la biodiversità che qualcuno ci ha lasciato. Dopo lo stop forzato del 2020 causa Covid, la Due Giorni Sestrese ha portato alla manifestazione persone, degustatori e operatori del settore, provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero. I curiosi hanno dialogato direttamente con i produttori, anche in questo caso senza filtri, proprio come il vino naturale, che si fa, sembra banale dirlo, semplicemente con l'uva. I vini convenzionali si fanno con l'uva e con una serie a volte molto molto lunga di corroboranti additivi che concorrono alla formazione di quel vino. Invece i vini naturali tendenzialmente si fanno con l'uva e in alcuni casi con un poco di solforosa, magari in annate più sfortunate. Ho un'immagine del vino nella mia testa. Io lo produco in un modo che poi finisce con l'essere proprio quell'immagine. L'uva è la cosa principale che poi si sviluppa in vino. L'uva è la cosa principale e si sviluppa il vino.